Il gruppo dirigente del PD ha il gran completo all'Aquila per commentare le elezioni amministrative in Abruzzo. Il segretario Michele Fina ha parlato di un buon risultato concentrandosi sui ballottaggi. Si vota per le città, ha detto Fina, non vogliamo mettere bandierine di nessun tipo, sono candidate persone che devono rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. I partiti non devono fare la conta dei voti politici come ha fatto il presidente della regione Marco Marsilio. In quattro città su cinque fatta eccezione per Roseto, il centro-sinistra percentuali tra il 40 e il 50 per cento, con le consigliere più votate donne a Francavilla, Basto Lanciane e Sulmona, ha spiegato Fina. I partiti devono essere a disposizione di chi si candida a guidare la città. Il PD ha puntato su temi come salute, sapere e lavoro. Abbiamo provato a raccontare di un partito presente sul territorio al governo nazionale in Europa che su questi temi ha le idee chiare. L'elettorato, secondo il PD, ha capito invece le ambiguità degli avversari. Fina ha citato Sulmona dove è stata fatta l'alleanza tra PD 5 Stelle. Abbiamo raccontato la stessa cosa, al centrodestra ha raccontato cose diverse disorientando i cittadini. Il cittadino, perfina inoltre, ha punito anche il maggoverno della regione. Ovviamente la campagna elettorale prosegue e noi abbiamo il dovere di creare un'alternativa credibile per la regione Abruzzo, ha sottolineato. Ha ribadito l'importanza dell'unità. Abbiamo rinunciato all'arroganza e ai personalismi. Abbiamo unito dovunque e dove era possibile. Siamo contenti del risultato naturalmente del PD. Anche qui, grazie alle candidate e ai candidati, torniamo a essere primo partito e adesso c'è una battaglia importante perché i ballottaggi sono determinanti. Quindi siamo al fianco, così come abbiamo fatto fin qua, di persone che hanno dimostrato di essere anche molto più forti delle coalizioni. Quindi davvero il principale merito che va ai territori è l'aver selezionato le persone giuste. Oggi ho dato un consiglio non richiesto ai candidati di centrodestra, che sono distanti in alcuni casi anche oltre 20 punti dai candidati di centrodestra, di non invitare il presidente della regione e i rappresentanti della regione in campagna elettorale, perché difficilmente possono raccontare una storia di un'amministrazione regionale efficace, apprezzata dai cittadini. Noi riceviamo da questo voto anche, lo sapevamo, ma insomma già alle scorse elezioni amministrative con la vittoria a Chieti, ad esempio, la responsabilità di rafforzare l'alternativa a questa regione, prepararci all'alternativa, un'alternativa molto diversa da quello che si fa adesso. La storia di Roseto poi l'ha fatta a parte Michele Fina, una parte della maggioranza lì, che ancora adesso sta in maggioranza, si è divisa e ha presentato un altro candidato sindaco in modo incomprensibile per noi, ha ribadito, ma chi è arrivato prima non è certo di centrodestra. Nelle prossime ore si capirà il da farsi.